Team manager del Volturno, Serena Masciandaro, oggi si è scritto un pezzo di storia della palla notte italiana qui perché è successo qualcosa di incredibile, la partita stava finendo, nel quarto tempo si è tornata indietro, un ritorno al futuro veramente epico. Sì effettivamente quello che è successo oggi è qualcosa che io quantomeno fino ad ora non avevo mai visto, una ragazza della squadra avversaria aveva tre falli quindi non poteva rientrare e ci siamo resi conto invece che la ragazza poi era in acqua e ovviamente l'arbitro non avendo certezza di quando questa ragazza fosse rientrata ha fatto ripartire la partita da più o meno metà del terzo tempo e forse in quel momento è mancata, insomma è mancato quel qui dalle ragazze per poter mettere ancora più in difficoltà la prima in classifica che oggi ha dimostrato di meritare questa posizione in classifica. Il rammarico però è quello proprio di aver sprecato tanto perché in difesa più o meno la squadra ha retto però poi in attacco sono stati sprecati tanti palloni e tanti regali al Cosenza e una squadra del genere non te lo puoi permettere. Con una squadra del genere no, assolutamente non ce lo possiamo permettere perché in difesa le ragazze sono state molto attente anche ad arginare il loro centro boa che è comunque un centro boa davvero molto valido e purtroppo con una squadra così organizzata come il Cosenza paghi lo scotto di sbagliare poi qualcosina in più sottoporta. Sarebbe stato insomma ancora più divertente se qualche palla in più fosse entrata e non lo attribuisco insomma ad una mancanza di attenzione forse le ragazze hanno avvertito un po' la tensione insomma l'atmosfera che si era creata non tutte sono ancora abituate a reggere dal punto di vista emotivo partite come queste però tutto fa crescere e sono certa che le ragazze insomma faranno bottino anche di questa esperienza. Grazie.